Per quanto riguarda la questione evolutiva, in quasi tutti gli ambiti culturali ed accademici, più o meno esplicitamente, si vuole inculcare nella credenza comune che noi deriviamo dalla scimmia. Adamo ed Eva vengono relegati nell'immaginario mitico, talmente mitico che si dissolvono insieme agli eventi legati al peccato originale, ma San Paolo ha spesso fatto riferimento a Cristo come il nuovo Adamo. Se si scredita la realtà esistenziale di origine monogenista, non hanno più senso il battesimo ed il cruento sacrificio di Cristo per salvarci. Non so se ce ne rendiamo conto. Non è vero che la scienza ha dimostrato in assoluto la nostra origine dalla scimmia. Ci sono ancora degli annelli mancanti di questa complessa catena evolutiva, lo affermano anche antropologi illustri come René Girard e Cet.